Mister Daniele De Rossi al termine di Cagliari Spal, una partita che si può forse analizzare in più momenti, in più fasi. L'inizio sicuramente non è stato facile, l'infortunio di Luca Valzania, il gol del Cagliari, però poi la squadra ha forse disputato uno dei migliori primi tempi da quando sei qui. Sì, diciamo sempre questa cosa, questo forse era uno dei migliori primi tempi. Sì, abbiamo fatto un bel primo tempo, abbiamo avuto diverse occasioni, abbiamo avuto un dominio abbastanza netto del campo. Questo mi è piaciuto molto, mi è piaciuto meno il secondo tempo ovviamente, ci siamo schiacciati un pochino, anche pur senza subire occasioni glamorose. Però ci siamo schiacciati contro queste squadre, era quello che avevamo detto un po' nel pre-partita, nella preparazione nostra della gara. Più ti schiacci e più metti in condizione i bravi giocatori che hanno squadre come il Cagliari di farti gol in qualsiasi momento. Proprio il secondo tempo forse è stata la chiave di volta alla squadra, comunque anche grazie agli episodi favorevoli come il gol che era stato annunato, sembrava aver preso magari un po' di coraggio quel piccolo episodio che può dare qualcosa in più. Però poi è mancato forse quel pizzico di agonismo che poteva consentirti di restare più in partita. Si può dire agonismo, secondo me è un po' più di lucidità. L'agonismo ce l'hanno messo fino alla fine, hanno provato a pareggiare, abbiamo avuto un'occasione come Cariello, clamorosa. Diciamo che non è agonismo, secondo me è lucidità, è saper leggere le fasi della gara, è saper capire quando c'è da rimboccarsi le mani e fare la squadra provinciale e difendere in undici. C'è da capire quando invece la squadra magari ha avuto un po' di ossigeno da un episodio favorevole e deve provare a riprendere campo, anche solo per spingere gli avversari lontani dalla propria aria. Però c'è anche l'avversario, il Cagliari è una squadra forte, ha giocatori forti e hanno avuto la reazione nel secondo tempo perché non sono la squadra che abbiamo visto nel primo tempo. Sicuramente appunto, lo hai detto tu mister, una delle notte liette sono poi il finale di gara. La squadra comunque non ha mollato, è sempre rimasta in partita, ha sfiorato anche un clamoroso pareggio con Meccariello. Insomma, ovviamente l'impegno e la voglia di lottare fino all'ultimo minuto non sono mai in discussione. No, quello non è mai un mio problema quando preparo una partita, non ho mai dubbio sul fatto che loro lottino, che loro ce la mettano tutta. Però non basta, abbiamo visto oggi, abbiamo visto in altre circostanze, non basta. Io gli faccio i complimenti, ma l'impegno in una partita di calcio, nella propria professione, dovrebbe essere la normalità. Ma ci sta anche qualcos'altro e noi dobbiamo riuscire a tirarlo fuori, anche perché la classifica a volte è preoccupante quando la guardiamo. Sono state grandi emozioni, soprattutto perché era servito ad agguantare un pareggio momentaneo, in un primo tempo dove magari avevamo preso un gol e non ci eravamo espressi al meglio fino a quel gol lì. Poi avevamo cominciato a macinare il gioco e era un po' il coronamento di quell'ultima mezz'ora, diciamo. Ero contento, soprattutto perché il mio primo gol con la Spal in Serie B e quindi è stata un'emozione bellissima. Ne abbiamo parlato anche con il mister poco fa. Nel primo tempo la spalla ha chiuso in crescendo, è una grande prova di carattere. Nel secondo tempo poi forse è mancato qualcosa, anche se nella fase finale la squadra ha comunque chiuso all'attacco. Cosa secondo te può essere qualcosa che è mancato per restare in gara fino all'ultimo? Secondo me ci siamo abbassati tanto, abbiamo lasciato il pallino del gioco a loro e noi siamo una squadra, secondo me, che riesce ad esprimersi al meglio quando ha la palla nei piedi. Il mister a fine primo tempo ci aveva chiesto di giocare di più perché sapeva lui e sapevamo noi che potevamo metterli in difficoltà tramite il gioco, però non siamo riusciti ad esprimerci, forse eravamo troppo bassi o forse non so identificare la motivazione sicuramente, però il fatto è che abbiamo fatto un secondo tempo al di sotto delle aspettative di quello che c'eravamo prefissati durante l'intervallo. Ora si torna subito al lavoro in vista del prossimo impegno casalingo contro il Bari. Da cosa si riparte lunedì per preparare al meglio la prossima sfida al Paul Maz? Noi tanto affrontiamo tutte le partite una per volta e sappiamo che è un campionato imprevedibile, sappiamo che una sconfitta non cambia nulla, come una vittoria non ci cambierà nulla. Sicuramente cercheremo di affrontare tutte le partite cercando di tenere il pallino del gioco e cercando di dare sempre tutto come facciamo, come abbiamo fatto anche oggi fino al 95esimo, preparandoci al meglio in settimana.